Il tema di salva spazio, hai la casa piccola, quindi un unico ambiente molte volte, un monolocale, case moderne nelle grandi città, prevedono molto spesso di avere un unico ambiente. Questa è la soluzione ideale che fa per davanti un comodissimo divano, ha tutte le caratteristiche, due metri di larghezza di divano, ospita ben tre persone in maniera tutto comodo, ma all'occorrenza con un semplice movimento. Ecco. Si libera un vero e proprio letto matrimoniale. Sì, proprio la composizione ideale per gli ambienti piccoli e dove serve. La perfumazione è sempre molto facile e comodo. Le colorazioni disponibili sono circa una trentina e combinazioni, possono essere una migliore di combinazioni. Lo spazio totale da occupare è quello del letto, in questo caso qua del divano, ma può essere ampliato in tante, come dire, con tanti moduli aggiuntivi. Vienimi a trovare con le misure del tuo ambiente da regare, del tuo ambiente salva spazio e progetteremo la soluzione più adatta alle tue esigenze. Ciao da Salvatore, il tuo camerettaio di fiducia.